Siamo con Giuseppe Pacini, difensore classe 92, proveniente dal Fondi. Giuseppe, tu sei uno dei pochi non campani del gruppo. Sì, ho visto, siamo io un marchigiano e Mauro Cori un pugliese, poi bene o male tutti i campani. Però sono ragazzi splendidi, sia chi più piccoli, sia quelli miei coetani, che i ragazzi più grandi. Fin dal primo giorno, dalla prima sera che sono arrivato, si sono dimostrati ragazzi splendidi. Ecco, appunto, tu che sei uno dei nuovi, come vedi questo gruppo che si sta pian piano formandosi? Ma io credo che tra ragazzi formare un gruppo a volte può essere difficile, ma anche facile, perché bene o male ci ritroviamo in uno spogliatoio dove siamo tutti abbastanza giovani e abbiamo tutti grande voglia di imparare, sia dai più grandi che dal mister. Quindi per ora c'è una perfetta armonia nello spogliatoio. Credo che le cose possono solo migliorare. Ecco, tu sei uno dei più giovani, anche se comunque oggi un 92 non è che può essere definito proprio alle prime armi. Vieni ad Arzano con tante motivazioni, ci dici anche un po' le tue caratteristiche? Ma io sicuramente vengo con tante motivazioni, anche vista la retrocessione dell'anno scorso. Quindi se io e Gigi Palumbo veniamo con tanta voglia di riscatto e tanta voglia di dimostrare che questa categoria possiamo farla bene. E per Arzano daremo il massimo. Io nascuto come attaccante, sono tre anni e faccio il terzino, quindi mi piace fare anche la fase offensiva. E ogni giorno cerco di migliorare comunque la fase difensiva, visto che ho sempre da migliorare. E credo anche che con i ragazzi e con il mister posso solo che migliorare durante la stagione. Quindi puoi offrire anche varie soluzioni tattiche al mister che finora ha provato una difesa a quattro, però tu avrai, come hai detto tu benissimo, avrai anche licenza di offendere. Sì, anche ieri l'amichevole mi ha provato esterno alto, comunque mi metto a disposizione sia del mister che della squadra e in qualsiasi posizione verrò impiegato, cercherò sempre di dare il massimo per la squadra e per dimostrare che posso fare bene in questa categoria. Anche se la squadra è cambiata molto, tu come vedevi l'Arzanese l'anno scorso e come te l'aspettavi? Se poi veramente si è rivelata per quello che ti aspettavi? L'anno scorso noi siamo venuti ad Arzano e abbiamo preso cinque gol. Il giorno è andato, abbiamo vinto, per me è sempre sembrata una squadra con molto agonismo, molta cattiveria e soprattutto con la voglia di non mollare mai. Sono arrivato qui da una settimana e comunque vedo che è la caratteristica principale di tutti i ragazzi, di quelli vecchi e anche quelli che sono arrivati, di non mollare mai, di lottare per ogni pallone e di sudarsi la maglia durante tutto l'anno. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo. Grazie a voi.